dire la sua e poi tacere. Perché la verità è mite, la verità è silenziosa, la verità non è rumorosa. Non è facile quello che ha fatto Gesù, ma c'è la degnità del cristiano che è ancorata nella forza di Dio. Con le persone che non hanno buona volontà, con le persone che cercano soltanto lo scandalo, che cercano contanto la divisione, che cercano soltanto la distruzione, anche nelle famiglie. Silenzio e preghiera. Grazie.